Onorevole, di ieri la notizia che ci sono delle scorie radioattive su questo territorio nella piana di Gioietà o tra Taurinova e Città Nova. Ancora l'andrangheta domina questo territorio, controlla questo territorio? Se è vera la notizia. Allora, sì, infatti, volevo proprio puntualizzare questo. Quando ci sono queste notizie si crea l'allarmismo e credo che creare allarmismo non sia assolutamente necessario ma richiamare l'attenzione è indispensabile perché non da ora, non è questa notizia certo, lasciate dire che mi preoccupa di più perché è anche vicino alla zona dove abito quindi non so se mi spiego ma insieme a me abitiamo diversi cittadini e dicevo non da ora, non è questa la notizia io fin da quando ho svolto l'attività parlamentare mi sono sempre preoccupata perché da che mondo è mondo ci sono dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed altro sappiamo benissimo che la gestione dei rifiuti tossici delle sostanze radioattive è il business per l'andrangheta, per la camorra non dimentichiamo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Schiavone che è ormai morto quello che io non riesco a capire è il motivo per cui a livello di inchieste sull'ambiente tutto si ferma le inchieste partono però poi si fermano si è parlato allora quando c'è stata la costruzione del porto di Gioia Tauro dell'inabissamento nel porto prima dell'inizio dei lavori proprio di sostanze radioattive nella Spromonte purtroppo in tutta la Calabria e ripeto quello che trovo strano è che gli allarmi partono però non si capisce perché si deve arrivare al discorso della terra dei fuochi io sono convinta che purtroppo siamo nella terra dei fuochi non è solo quella della campania però se dico questo lo dico proprio per incentivare gli interventi che sono necessari non possiamo lasciare i cittadini di questa terra con il punto interrogativo con la preoccupazione di mangiare ortaggi che magari vengono coltivati in quelle zone di bere acqua che non è detto che sia del tutto potabile e quant'altro allora a questo punto sì i due sindaci do atto ai due sindaci di Città Nova e Tauria Nova che hanno cercato di allertare il presidente della città metropolitana ma a mio avviso non basta questo qui è ora di far partire davvero gli organismi preposti alle indagini l'ARPACAL per esempio che cosa fa viene e fa la solida cosa guardate questa notizia tra l'altro mi ha un po' colpita e naturalmente preoccupata perché è venuta fuori a distanza di 15 giorni dalla trasmissione del film Il giudice meschino che è basata sul libro dello scrittore Gangemi dove era evidenziata la sepoltura in determinate zone dell'Aspromonte proprio di fusti di sostanze tossiche era un film è un libro io sostengo che purtroppo purtroppo insomma fossimo speranzosi è chiaro dobbiamo essere speranzosi che siano film che siano racconti ma purtroppo non è così La domanda che gli facciamo lei è stata parlamentare più volte in queste circostanze lo Stato quando arrivano questi pitoni questi fusti dove era? Lo Stato a parte che lo Stato siamo sempre noi il discorso dell'ambiente non è mai stato attivo in questo senso dal mio punto di vista al di là degli schieramenti politici e di quant'altro cioè è qualcosa è un ministero che si adagia un po' troppo non va fino in fondo io a suo tempo ho fatto diverse interrogazioni parlamentari sia per il problema appunto di queste sostanze che si diceva già fossero interrate nella Spromonte poi il problema di Crotone che è sempre all'ordine del giorno e tuttavia alcune interrogazioni rimanevano senza risposta altre erano molto la risposta era eccessivamente tranquillizzante no? non c'è niente no? è così no? si dice allora l'andranghe della camorra ci sono o non ci sono? ci sono su questo credo che nessuno abbia dubbi il fatto che le sostanze tossiche le sostanze nocive rientrino nel traffico che fa parte di uno dei business di queste organizzazioni criminali non c'è dubbio vogliamo o non vogliamo non lo posso fare io chiaramente trovare la veridicità anche di di questi fatti e delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia in tal senso la piana di Gioia Tauro non è esente no? dalla presenza di famiglie mafiose e pensare che queste siano rimaste fuori dal traffico di rifiuti io ho il mio punto interrogativo e credo che sia lecito che ce l'abbia quindi ci può essere la politica d'accordo con l'andrangheta? no la politica d'accordo con l'andrangheta in questo discorso non penso anche se anche se qualche inchiesta per esempio della soprattutto mi riferisco alla Camorra ha evidenziato questi collegamenti però diciamo quando si va anche oltre quando c'è stata la storia delle navi per esempio non dimentichiamo che qui sulla costa ionica noi abbiamo una nave che dovrebbe essere piena addirittura di polvere che viene usata per far saltare in aria le persone e quando si è parlato per esempio di quel discorso delle navi dei terreni io non ho tralasciato il discorso di fare attenzione richiamare la presenza dello Stato perché alcune volte non voglio dire assolutamente complice ma gli interessi che circolano in questo settore sono tantissimi sono enormi e laddove ci sono interessi c'è la presenza della criminalità non c'è dubbio della criminalità organizzata delle mafie ma c'è anche la presenza di tutte le parti istituzionali colluse con le mafie con le mafie